Nicola Lauricella, proprietario degli animali del parco ornitologico di Villa d'Orlean, oggi con noi per parlarci delle ultime sorti e degli ultimi avvenimenti degli animali e del benessere di questi ultimi. Certo, in questi ultimi tre anni non è stato un bel percorso e ancora forse ci sarà da combattere per cercare di non fare perdere questo bellissimo parco che è stato, oggi 60 e più anni, è stato impiantato nel 1955 per volontà del Presidente Alessi con la collaborazione di mio padre e con la collezione di animali di mio padre, oggi miei, del quale ancora in questo momento la Regione non si è convinta che la proprietà è esclusivamente della mia famiglia e su questo c'è ancora una causa in corso ed è per questo che ancora sono fermi dentro il parco. Animali che sono stati riconosciuti a livello europeo e mondiale come delle eccellenze, voi avete dei pappagalli pregiatissimi ma anche tanto altro e che forse non è stato valorizzato sufficientemente alla Regione Sicilia. Non è stato valorizzato, non è stato forse compreso in questi ultimi anni perché precedentemente qualunque Presidente si è insediato ha riconosciuto l'importanza di Parco d'Orlean, ha apprezzato quello che si fa con le scuole, con le università e i progetti internazionali a cui partecipiamo che ci hanno piazzato quasi al terzo posto a livello europeo, abbiamo degli animali unici come la voltoio capovaccaio che si è riprodotto, è l'unica coppia esistente in cattività in Sicilia e che si è riprodotta, in questo momento si stanno preparando per la terza cova, fanno parte di un progetto internazionale, anche questo è un progetto live che andrà in porto in questi giorni e pappagalli rarissimi che fanno parte di altri progetti internazionali per la rintroduzione degli stessi nei loro luoghi d'origine. A proposito di riproduzioni ricordo che si sono riprodotte anche quelle scimmiette piccolissime, le usti Esattamente, per esempio anche le usti sono delle scimmiette molto rare, ultra protette, sono le più piccole scimmie del mondo come misura e hanno riprodotto regolarmente e continuamente anche con dei parti eccezionali, di solito fanno un piccolo solo, da noi sono riusciti a partorire anche tre gemelli e questo è anche merito di come vengono ben tenuti, come vengono accuditi, tutto lo staff che sino adesso continua a seguirli Perché inizialmente c'erano degli zookeeper specializzati, se non ricordo male erano circa dieci, oggi? Erano in tempi normali, noi avevamo dieci zookeeper, una serie di veterinari che ci seguivano e che ci continuano a seguire peraltro oltre a una serie di appassionati che sostengono per passione il parco Oggi chiaramente tutto è stato ridimensionato, una gran parte degli animali sono stati portati via gli zookeeper sono ridotti a tre, con direttori del parco e i veterinari regolarmente continuano a seguire come sempre perché lo fanno più per passione che per danaro Ma questi animali, i palermitani, le mamme che portano giornalmente i loro bambini li ritroveranno là ancora o sono destinati ad andare via? Secondo i programmi dell'amministrazione regionale dovrebbero andare via Ultimamente c'è stata una sentenza del CGA che ha approvato il piano di sgombero previsto e redatto dall'amministrazione regionale il veterinario dirigente dell'istituto zooprofilattico il dottore Antonio Consolo dell'istituto zootecnico e una serie di esperti zoologi di cui non sappiamo il nome ma si dice che hanno partecipato a questo programma E quindi che destino avranno? Dove andranno a finire? Secondo quello che ci è dato sapere da Via Traverse perché ufficialmente non si sa niente entro questi dieci giorni dovrebbero andare all'istituto zootecnico Istituto zootecnico che peraltro langue in termini economici perché è su tutti i giornali le loro problematiche economiche anche a livello di cibo per i loro animali Secondo poi hanno delle strutture obsolete non hanno strutture per ospitare animali esotici perché la parola stessa zootecnico vuol dire zootecnia significa vitelli, capre e vacche hanno approntato delle gabbie fatiscenti di cui vi posso fare vedere le immagini e non si capisce neanche chi è che li seguirà perché non credo ci siano persone esperte su animali esotici tant'è che i nostri veterinari che sono veterinari esperti in animali da giardino zoologico non sono tutti a Palermo ma sono uno a Reggio Calabria l'altro a Marzala, un altro a Varese perché non tutti i veterinari conoscono la vita degli animali esotici Tra l'altro voi avete creato delle megagabbie all'interno delle quali siete riusciti a ricreare l'habitat degli animali in natura ricordo quelle dei pappagalli, dei cacatua ad esempio Questo è uno dei vincoli dei nuovi giardini zoologici tenere gli animali in ampi spazi ben arredati all'interno proprio per dargli il massimo del comfort grandi spazi e pochi animali tutto a favore degli animali e meno del pubblico il pubblico deve soffermare per cercare gli animali senza disturbarli, senza farli spaventare all'istituto zootecnico ci sono quattro pollai senza copertura senza nessun arricchimento ambientale è in mano a delle persone che di solito si occupano di zootecnia e non di animali esotici Ma questo è certo, questo destino? Sembrerebbe proprio così anche se va contro quello che era il programma stilato dalla Regione e il programma approvato dal TAR che prevedeva esclusivamente il trasferimento degli animali nei mesi di ottobre e novembre Ma perché questo accanimento contro gli animali? Ma forse contro Nicola Auricella? Non lo so perché nessuno ho chiesto appuntamenti, ho chiesto spiegazioni nessuno mi ha detto niente Si è parlato di cifre enormi per il mantenimento degli animali tutto è nato così? Basta fare due conti 10 operai, lo stipendio di 10 operai messi regolarmente con tutto quello che prevede la legge già si arriva a una cifra che non è sicuramente bassa e sicuramente supera i 300 mila euro l'anno tenuto conto che nell'ultimo anno, nel 2012 il Presidente Lombardo aveva quasi dimezzato anzi abbondantemente dimezzato il nostro canone portandola a 250 mila euro, circa 260 e la dice lunga sul fatto che noi ci siamo sacrificati anche quell'ultimo anno affinché il parco fosse sempre nelle ottime condizioni e gli animali stessero nel miglior modo possibile E oggi questi animali come vivono? Come sopravvivono? Per ora ci stiamo pensando noi personalmente ci stiamo pensando noi Perché non avete più nessun tipo di introito? Da tre anni non c'è nessun tipo di introito non solo, ma siamo obbligati a tenere gli animali là dentro finché l'amministrazione regionale non riconosce in tribunale la proprietà degli animali in capo alla mia famiglia Tra l'altro molti di questi animali dovrebbero rientrare con il CITES nel trattato di Washington Questo è un problema che complica ancora le cose perché molti animali prima di essere spostati hanno bisogno di tutta una serie di autorizzazioni del Ministero e tutta una serie di accudimenti particolari dalle casse, il trasporto, la destinazione, l'acclimatazione al punto di arrivo la temperatura soprattutto e infatti giustamente l'amministrazione regionale ha scelto il mese di ottobre e novembre specificando nel programma che non potevano partire in inverno perché c'era troppo freddo in estate perché ci poteva essere troppo caldo e in primavera non si poteva partire perché gli animali di solito sono in amore e si preparano per la cova E allora perché tra dieci giorni? Siamo in pieno febbraio e tra l'altro è arrivato il freddo Questo bisogna chiederlo all'amministrazione regionale probabilmente, io sono sicuro che nella sede della legalità come nell'amministrazione regionale saranno attenti a questo tipo di cose ne sono certo, non credo che lo faranno Ma questo parco è amato dai politici? Lo vengono a visitare ogni tanto? Allora, dall'assemblea sono venuti quasi tutti a visitarlo gli ex presidenti bene o male scendevano sempre a fare una passeggiata a vedere il parco e a vedere come procedeva e a vedere il lavoro che facevamo e se erano best pays i soldi che ci venivano dati In questi ultimi tre anni non so, io non ho incontrato nessuno né nessuno mi ha dato il piacere e l'onore di poterlo incontrare perché io ho chiesto più volte appuntamenti ho chiesto più volte la possibilità di ragionare su queste cose e l'unica cosa che abbiamo potuto fare è difenderci in tribunale da attacchi pesanti Qual è per esempio il primo, l'aborigine, sulla proprietà degli animali Non ci viene riconosciuta la proprietà degli animali e degli strumenti Finché questo non avviene noi non li possiamo toccare per portarli fuori per portarli in altri posti Abbiamo voluto spostare solo alcune cose dichiarando dove dovevano andare come dovevano trasportare perché era assolutamente improponibile continuarli a tenere ma sempre in attesa della sentenza che dichiare che gli animali sono di nostra proprietà Peraltro i documenti sono sotto gli occhi di tutti per cui non sarà una cosa difficile Quindi Nicola Lauricella, il parco ornitologico, l'amministrazione regionale ma ancora non si ferma, ci saranno altre puntate Io vorrei fermarmi pure subito perché chiaramente il benessere degli animali viene prima di tutti per cui vorrei trovare una collocazione, un destino per questi animali in maniera definitiva Quindi ha mollato sotto questo aspetto? No, mollare non ha mollato perché chiaramente dobbiamo sempre aspettare che ci siano queste sentenze Spero di trovare un interlocutore all'interno dell'amministrazione con cui poter ragionare sul trasferimento di questi animali nel miglior modo possibile senza forzature, senza prese di posizione Certo, operare un trasferimento come se fosse uno sfratto esecutivo di un magazzino pieno di scrivanie e di sedie non si adatta molto a quello che è il trasferimento di una collezione ornitologica non si adatta al benessere degli animali e soprattutto ci sono una serie di leggi che prevedono questo soprattutto prevedere dove vanno a finire basta fare che voi andate a fare una visita all'istituto zootecnico in qualunque momento e andate a vedere in che condizioni sono le strutture che dovranno ospitare gli nostri animali assolutamente fatiscenti, assolutamente inadatte non capisco quest'operazione a che cosa serve e a chi giova se per segnare un punto all'amministrazione regionale che lo segnino se sono contenti così io non posso che allargare le braccia E neanche un'ora dopo l'intervista Nicola Lauricella ci informa di aver ricevuto nota di comunicazione per l'attuazione dello sgombero degli animali per il giorno 9 febbraio alle ore 13 Nicola Lauricella ci informa di aver guardato il nostro canale